Architetto tessitore, anche il Comune di Collegno aderisce al protocollo APE. Che cosa ha spinto a suo tempo il Comune ad aderire al protocollo? Il Comune di Collegno sin dal 2001 ha aderito all'Agenda 21, quindi ha avviato un percorso che nel momento in cui c'è stata l'opportunità di aderire al protocollo degli acquisti pubblici ecologici è risultato come una delle possibilità in cui poter attuare le tematiche sostenibili. E quindi sin da 2003 noi siamo tra i primi sottoscrittori di questo protocollo, fortunatamente apprendo adesso che siamo arrivati a quasi 50 sottoscrizioni, quindi sicuramente, convintamente continueremo ad essere tra i promotori e assolutamente degli aderenti al protocollo. E' stato in questi anni una bellissima esperienza anche di collaborazione soprattutto con Città Metropolitana e devo dire con ARPA Piemonte che hanno sempre supportato gli uffici sia nella redazione soprattutto dei bandi di gare, per poter introdurre quelli che adesso sono in qualche modo quasi obbligatori ma prima non lo erano, i criteri ambientali come criteri di scelta dei fornitori e dei lavori, insomma tutto quello che fa sì che effettivamente si possano introdurre dei meccanismi di green all'interno degli appalti.